Dopo i calcinacci caduti dal ponte Capograssi, ora piovono tegole dal tetto del teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona. L'intervento dei vigili del fuoco è scattato questa mattina su richiesta di residenti e commercianti della zona che già da ieri sera avevano segnalato il caso al centralino del 115. Fortunatamente le tegole cadute non hanno colpito né persone né le auto in sosta, anche se hanno sfiorato il gazebo di un bar. I vigili del fuoco con i propri mezzi sono saliti sul tetto del teatro per rimuovere le situazioni di pericolo e ripristinare la normalità. Una folla di curiosi ha siepato via Denino nel corso dell'intervento. Nel maggio scorso l'assessore ai lavori pubblici Moro di Rimacco aveva fatto un sopralluogo, impegnandosi a reperire i fondi per mettere di nuovo mano ai lavori. Infatti tegole sono cadute anche durante lontana di maltempo del febbraio scorso, quando alcuni locali del teatro, come la direzione Guardaroba, vennero allagati dalle piogge di quel periodo. Intanto, sempre questa mattina, i danni del maltempo si sono visti su una facciata di un palazzo di via Vittorio Veneto. Una lamiera stava precipitando sulla strada e l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare il peggio.